A Montechiaro d'Asti abbiamo due squadre partecipanti alla Serie A di Tamburello Muro, tra cui il Rilate. Siamo in compagnia di Federico Belvisotti, capitano del Rilate. Federico, come vedi questa stagione? Quest'anno abbiamo costruito una squadra di ragazzi che vogliono crescere e divertirsi in particolare, che poi è lo scopo del gioco. Speriamo di essere competitivi, perché comunque l'abbiamo dimostrato fino a adesso. Alla partita di Rilate. Le qualità ci sono, speriamo di fare un buon campionato e una bella partita. Auguriamo un buon campionato a Rilate e lo lasciamo ai suoi allenamenti. Grazie.